Cardano game over. Perché abbiamo fatto cash out? Rispondiamo con un video a tutte le richieste che ci sono pervenute in questi ultimi giorni chiedendoci lumi, spiegazioni, ma perché avete abbandonato Cardano per sempre a quanto pare. Ebbene, come è stato più volte menzionato, Cardano ha fatto parte dei Crypto Sleeping Giants per una parte del 2021, poi è entrato ufficialmente all'interno del pilastro core dell'asset allocation della società. Tuttavia è stata smobilizzata in due diversi momenti, in occasione di un primo segnale tecnico che si è avuto durante il fine del mese di ottobre, in particolar modo alla rottura del livello di 1,90 che a nostro modo di vedere è stato considerato un primo segnale d'allarme per quanto concerne la capacità di tenuta. E la parte residuale, vale a dire quello che rimaneva poi della posizione complessiva, nei giorni scorsi ha la rottura, come potete vedere, di questa struttura tecnica. So che molti magari non ci credono, non credono che abbiamo scaricato Cardano e vi spieghiamo anche per quale motivo l'abbiamo fatto. Non è una decisione che è stata presa oggi, per oggi, almeno quella residuale sì, in relazione alla contrazione che ha caratterizzato il mercato, ma quella strutturale è stata concepita e sviluppata nel tempo. Tanto per darvi un'idea, il 26 ottobre, quindi grosso modo 5 settimane fa, è stata scaricata, questo è un trade fatto con denaro reale, su uno dei exchange della società in cui è stato smobilizzato una parte significativa della posizione complessiva che era detenuta, nello specifico 100.000 Cardano, come potete vedere, grosso modo 186.000 euro di controvalore, perché, come abbiamo detto prima, si è ritenuto la rottura di questo livello un segnale preoccupante e quindi, in forza di quello, si è iniziato a scaricare pesantemente l'asset in questione. Vediamo quelli che sono, al nostro modo di vedere, le 5 chiavi di lettura che sono fondamentali per comprendere per quale motivo, forse su Cardano è arrivato il momento di andarsene a gambe levate. In prima considerazione, la debolezza della price action, si vede perfettamente qui, dopo il forte spinta propulsiva che lo ha portato a 3 dollari, con il FOMO che c'è stato per l'aggiornamento di Alonso, il drawdown dall'old time high storico è ormai superiore al 60%, questo non è un buon segnale, soprattutto in un momento di mercato, vale a dire quello che è andato da settembre ai giorni nostri, in cui tante altre crypto asset invece hanno performato egregiamente. Secondo, il breakdown nella capitalizzazione è stato Cardano superato anche da Solana proprio in queste ultime sedute di negoziazione, e ulteriormente la struttura tecnica, appunto il breakout ribassista di questo livello che non fa presagire niente di buono. Andiamo avanti, seconda considerazione tecnica, se operate istituzionalmente e spostate quantità di crypto asset di una certa rilevanza, vi sarete resi conto che depositare ADA, l'exchange richiede un determinato periodo di tempo prima di darvi la disponibilità a operare con quell'asset. A seconda dell'exchange si può andare da 25 conferme, in tali casi anche a 300 conferme per exchange asiatici, significa andare da tempi di attesa che vanno dai 10 minuti ai 90 minuti in caso estrema razio di attesa, ad ogni modo 10-15 minuti a nostro modo di vedere sono tantissimi, e per quale motivo? Perché ci sono altri asset, altre catene concorrenti che danno la disponibilità istantanea dell'asset da exchange a wallet, da wallet ad exchange, e questo è un punto di riflessione piuttosto significativo che deve far comprendere come in questo momento questo crypto asset risulti inefficiente per la sua operabilità. Terza considerazione tecnica, USDC, che è oggi la stablecoin ritenuta più affidabile, più prestigiosa, più adottata, e così via discorrendo, in questo momento viaggia solo sulle seguenti catene, Ethereum, Stellar, Algorand, Solana, Tron ed Edera. Non trovate Cardano, perché non c'è Cardano? Oltretutto sappiamo benissimo la storia di Cardano, da dove esce, tutte le sue valenze sul versante tecnologico, eppure USDC, che ha alle spalle l'azienda Circle, ci ha pensato molto bene, o si è messo in stand-by, o assolutamente ha ritenuto opportuno, andare a rendere disponibile questo tipo di stablecoin sulla chain di Cardano. Quarto, si tratta di un ecosistema che nel suo complesso è poco esteso, payments, DeFi, NFT, oracoli, stablecoin, automatic market maker, asset sintetici, eccolo qui, come potete notare, stiamo parlando, sì, di alcune realtà che sono state, che sono conosciute, quelle più rilevanti ad oggi, come gli unici progetti che possono essere considerati in un certo senso validi, che forse avranno anche in qualche modo, in qualche suo futuro, sono Coti, Ardana e Meld, in particolar modo Coti potrebbe diventare una nuova Paypal per il mondo cripto, lo ripeto, potrebbe diventare una nuova Paypal. Questo è un bellissimo redazionale tratto qualche giorno fa da un commento di un analista su Yahoo Finance, lo trovate poi, il link in descrizione per andare a leggere, in cui viene messo in descrizione, viene messo sostanzialmente in allerta, vedete, noi ci siamo mossi anche sulla base di questo tipo di segnali che si erano iniziati a percepire, vale a dire, attenzione a Cardano, perché ci potrebbero essere delle spiacevolezze, innanzitutto ormai si ha un lag, cioè un ritardo con i suoi principali competitor, un ritardo e la sua adozione potrebbe diventare, la sua mass adoption potrebbe diventare sempre più critica. Ad ogni modo i suoi investitori istituzionali stanno aspettando che cosa? Delle esempi pratici di applicazioni che facciano comprendere il potenziale della rete. Cardano è stato un progetto pionieristico perché è stato il primo che, come abbiamo anche detto la volta scorsa, ha lanciato il Proof of Stake, il protocollo di validazione Proof of Stake, e da lì poi sono nati tantissime altre catene che sono andate a copiare l'idea o a migliorare addirittura l'idea. Sempre secondo una moltitudine di analisti e esperti del settore, ormai si considera la tecnologia della blockchain di Cardano come superata e probabilmente anche sopravallutata. E' per questo motivo che tante società in questo momento quando devono andare a sviluppare progetti e chiamano, assumono i diviloper, sono questi ultimi che poi dirigono i capitali su una determinata catena oppure no. Per quello che stiamo vedendo ci sono catene che sono altamente più performanti, efficienti, veloci, che stanno avendo un'adozione letteralmente massiva e che pertanto renderanno sempre più difficile la capacità di competere di Cardano nel prossimo futuro. Quinto, il delisting nel prossimo anno di eToro non è una notizia di una portata funesta, tuttavia eToro non rappresenta oggi un grande exchange, ma questo tipo di operazione che ovviamente riguarda gli investitori retail statunitensi potrebbe allertare a notizie negative nel prossimo, proprio durante il 2022. In estrema sintesi, pertanto per andare alle conclusioni, quello che può emergere è che oddlare o oddare a tempo indeterminato con fede messianica non ha ormai più senso non solo per Cardano ma anche per tantissimi altri asset tranne per Bitcoin, il quale non avendo concorrenti diretti ci si può permettere questo tipo di strategia buy and hold. In tutti gli altri casi è invece necessario analizzare e discriminare lo scenario di mercato, l'evoluzione della concorrenza e di casi di adozione in blockchain rivali. Attenzione, continuare con la mentalità bisogna holdare a tempo indeterminato potrebbe avere delle conseguenze, finanziariamente parlando, disastrose proprio perché vi troverete con un asset che nel tempo non avrà più casi d'uso o i casi d'uso saranno talmente limitati che ci saranno numerose, ci sarà tanta malcontento proprio nella community. Io lo ripeto ancora una volta, non mi innamoro di nessun tipo di crypto asset, non faccio il tifo per nessuna blockchain, se no magari quelle che utilizzo, ma fino a quando questo è considerato attendibile. Quando ci saranno e se ci saranno dei progetti che saranno più performanti, più efficienti, ulteriormente più economici, si andrà a spostare l'operatività su quel tipo di ecosistema. Al momento attuale non si stanno vedendo oggettivamente niente di credibile, niente di impattante su Cardano. E io su Cardano a livello personale ci sono entrato nel 2018, pertanto stiamo parlando 18, 19, 20, 21, sono 4 anni, cioè a un certo momento deve finire anche il tempo della filosofia, il filosofia, il filosofeggiare, sì però vedrai che l'anno prossimo, ma vedrai che domani l'anno prossimo sarà un giorno migliore, è un film romantico, io voglio vedere risultati oggi o al massimo dopo domani, per quale motivo? Perché al lato di Cardano ci sono tantissimi, come abbiamo visto, tantissimi altri competitor che stanno invece emergendo, che stanno avendo successo e in relazione a questo non mi posso più permettere di stare lì col cerino in mano aspettando che ad ogni modo, proprio richiamando la price action di Cardano ci sono segnali tecnici allarmanti e per questo motivo che io invito veramente tutti quanti, chi ha posizioni su Cardano a fare una riflessione profonda su quello che può essere il futuro del progetto, lasciando stare i massimalisti, lasciando stare chi ha la fede messianica o chi vive con una logica tribale di community, per cui io sono Cardano forever perché Cardano è stato il primo che ha inventato il plus forte, chi se ne frega, io voglio risultati, voglio vedere che c'è un ecosistema che si sta gonfiando, voglio vedere che ci sono altri come me che stanno usando Cardano per fare operazioni, operazioni di DeFi, operazioni di NFT, minting, operazioni di messa a reddito di posizioni istituzionali e così via discorrendo, o chi sposta a crypto asset ricorrendo a Cardano, ma non lo fa perché si rende conto come abbiamo visto prima che ci sono delle inefficienze proprio dal punto di vista pratico operativo quando si spostano asset da un wallet a un altro. So che in rete ci sono alcuni altri analisti, consulenti, operatori di Vilo perché hanno iniziato a fare lo stesso tipo di prolusione su Cardano, nel senso che ormai è un progetto che era stato grandioso all'inizio ma si deve ormai abbandonare proprio perché la filosofia non paga più, ci vuole la tecnologia. Come abbiamo potuto vedere la tecnologia potrebbe anche essere ormai o sopravvalutata o peggio ancora superata, in descrizione trovate il link per andare a leggere questo redazionale con anche ulteriori recensioni da parte di altri analisti tecnici che fanno comprendere come su Cardano ci sia una luce rossa che sta lampeggiando da svariate settimane.